Di incremento in tutta Italia dei casi totali rispetto al giorno precedente di 107.786 secondo il bollettino del 6 luglio sull'aggiornamento dei casi Covid-19, consultabile attraverso il sito del Ministero della Salute. Il dato relativo alla regione siciliana parla di 8.920 casi. Nella provincia di Caltanissette invece sono stati registrati 459 casi. L'aggiornamento dell'aspe nissena di mercoledì relativo sempre alle 24 ore precedenti precisa che i pazienti positivi al SARS-CoV-2, tutti in isolamento domiciliare, sono così suddivisi. 139 pazienti di Gela, 100 di Caltanissetta, 44 di Niscemi, 34 di San Cataldo, 26 di Riesi, 19 di Sommatino, 14 di Delia, 14 di Mussomeli, 13 di Butera, 13 di Mazzarino, 9 di Milena, 7 di Vallelunga Pratameno, 6 di Campofranco, 5 di Santa Caterina Villarmosa, 5 di Serra di Falco, 5 di Villalba, 2 di Montedoro, 2 di Sutera, 1 di Acquaviva Platani e 1 di Marianopoli. 8 invece ricoverati in degenza ordinaria, 2 di Gela, 2 di Niscemi, 1 di Caltanissetta, 1 di San Cataldo, 1 di Sutera e 1 proveniente da fuori provincia. Mentre sono stati dimessi dalla degenza ordinaria un paziente di Gela, 1 di Niscemi e 1 di Caltanissetta. 183 infine guariti, 65 pazienti di Gela, 40 di Caltanissetta, 16 di San Cataldo, 13 di Niscemi, 9 di Mussomeli, 7 di Campofranco, 6 di Vallelunga Pratameno, 5 di Mazzarino, 5 di Sommatino, 4 di Butera, 4 di Milena, 3 di Riesi, 2 di Delia, 2 di Santa Caterina Villarmosa, 1 di Acquaviva Platani e 1 di Serra di Falco.